Gino Milano, coordinatore regionale di Centro Democratico, rimane la barra dritta al centro dello schieramento di centro-sinistra in un momento in cui il mare è in tempesta. Non c'è dubbio, ma quando il mare è in tempesta bisogna trovare nuove rotte senza dimenticare le capacità che si hanno e le possibilità che si hanno, tutte e due, i limiti e le potenzialità. Questo significa che ciò che la politica aveva detto dal punto di vista della partecipazione dei cittadini nelle elezioni, oggi la politica è stata siglata, suggellata con questa storia, momento storico istituzionale che ha travolto l'ultimo partito organizzato che apparteneva alla vecchia storia della politica italiana, il che significa che le novità che bisogna porre sono la ricerca di una politica nella sua arte di mediazione e qui Centro Democratico diventa importante, non soltanto per la sua posizione centrista che, ripeto, non è mai di una mediocrità, ma di una medietà che sappia ritrovare oggi le giuste soluzioni alle urgenti, reali esigenze dei cittadini, della gente, del popolo italiano. E' questo che stiamo tentando di fare anche oggi a livello territoriale a Pescara, con una strutturazione che era stata pensata, oggi si è particolarmente consolidata e diventa operativa già da oggi, da questa sera, sia nella sua parte strutturale rappresentativa, Centro Democratico è un gruppo politico che ha superato anche la fase del tentennamento del sospetto che potesse essere niente di più che un cartello elettorale, oggi invece è un gruppo politico che esiste in Regione, che si è stabilito sui territori in una coalizione di centro-sinistra seria, chiara che è la base, se vogliamo, ispiratrice, è l'indirizzo della via politica operativa. Centro Democratico è una realtà sempre più stabile all'interno del panorama politico innovatore e innovativo della Regione Abruzzo. Con una battuta, prossimo appuntamento alle amministrative di fine maggio e poi vediamo quello che succede anche a livello nazionale. Siamo presenti all'interno di liste civiche, all'interno della, come presenza anche rappresentativa nell'unica città al di sopra dei 15.000 in cui si vota, con una impostazione di corresponsabilità nella amministrazione della cosa pubblica e maggio ci dirà anche come avere un diretto dialogo, colloquio con i rappresentanti territoriali, ma non soltanto per una crescita del partito, che questa sta nella logica e nella ovvietà delle cose, ma proprio perché ci sia una chiara presenza, uno spessore all'interno, ripeto, di una rinnovata politica che veda idee e uomini, idee e donne, idee e persone all'interno di coalizioni serie, durature e che non vivano un arcobaleno elettorale di civismo che serve per creare la partecipazione, non fermarsi alle liste civiche. Centro Democratico è presente in tutto questo.